Sette chili di cocaina purissima sequestrati per un valore una volta sul mercato di circa 2 milioni di euro e due fornitori di droga arrestati dalla squadra mobile di Arezzo. In manette sono finiti un 25enne e un 42enne albanesi regolarmente in Italia residenti ad Arezzo. Secondo gli investigatori si tratterebbe di due dei più grossi fornitori di cocaina dell'Aretino. A loro i uomini della squadra mobile sono arrivati in virtù di una segnalazione da parte di alcuni cittadini che avevano notato nei pressi del cimitero di Creti nel comune di Cortona movimenti sospetti attorno ad un fabbricato abbandonato. Iniziata l'attività di indagine poliziotti hanno notato due auto che si fermavano spesso nei pressi di un casolare in campagna abbandonate fatiscente nei pressi appunto del cimitero di Creti. A prima vista il casolare appariva completamente dismesso ma in una mangiatoia coperta da alcuni mattoni gli agenti hanno rinvenuto una scatola di plastica vuota probabilmente pronta a contenere qualcosa da nascondere. I poliziotti hanno iniziato così il monitoraggio e il 30 novembre scorso hanno sorpreso due persone scendere da altrettante auto con uno zaino nero tra le mani. I due uomini dopo essersi trattenuti all'interno del casolare sono risaliti sulle loro auto e si sono allontanati. Gli agenti sono andati a controllare e hanno rinvenuto 7 panetti contenenti complessivamente 7 chili di cocaina. Attraverso una serie di pedidamenti gli agenti sono arrivati ad arrestare i due in centro d'Arezzo. La droga sequestrata una volta venduta al dettaglio avrebbe fruttato circa 2 milioni di euro. I due albanesi sono stati portati in carcere in attesa del giudizio di convalida.